Buongiorno, io sono Claudio Campobasso, direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia e introdurrò la parte più operativa di questa giornata. Mi associo ai ringraziamenti che sono stati rappresentati dal nostro Direttore Generale e dall'On. De Rosa perché dal punto di vista mio personale come tecnico ritengo che una giornata come questa possa mettere in evidenza una caratteristica un po' a mio avviso sottovalutata di quello che è il dissesto ambientale e che è quello legato proprio al consumo del suolo. Normalmente la collettività con i media è molto attenta a fenomeni di dissesto idrogeologico legati a frane, alluvioni e altri significativi problemi ambientali. È molto poco considerato invece proprio quello legato al consumo del suolo che è un elemento invece fondamentale perché la terra ha bisogno praticamente di respirare. Quando invece la copriamo con asfalto, con cemento e altri generi di strutture praticamente riduciamo la possibilità del nostro territorio di poter coadiuare quello che è la nostra vita nel modo più possibile naturale. Questo progetto che stiamo evidenziando qui in questa giornata, il Soil Administration Models for Community, è un progetto molto importante perché rientra nei finanziamenti del programma europeo LIFE e come è stato appunto accennato ci permette di avere degli strumenti di valutazione sugli effetti negativi dei servizi ecosistemici che sono poi quei servizi che ci danno la possibilità di avere elementi e dati su variazioni climatiche indotte appunto da un uso sconsiderato del consumo del suolo ma anche problemi relativi per esempio alla regimazione delle acque fino ad arrivare a problemi dell'impollinazione da parte degli insetti che non trovano più aree dove poter espletare la loro attività biologica. Tenete conto che sia a livello nazionale che anche a livello locale noi dell'Istituto dell'ISPR abbiamo calcolato praticamente che ogni minuto ci sono diversi metri quadrati di terreno che vengono coperti da cemento o da asfalto e è un trend che sicuramente va possibilmente ridotto. La difficoltà che c'è anche dal punto di vista di chi poi gestisce materialmente il territorio sia dal punto di vista politico che dal punto di vista anche amministrativo è quello di cercare di mediare, di bilanciare la necessità dello sviluppo che è quello che riguarda certamente anche la creazione di nuove opere con quelle che invece sono la possibilità di riutilizzo di ciò che è già esistente. Questo sicuramente permetterà di ridurre il consumo del suolo a breve termine. Detto ciò allora io adesso presenterei il primo intervento della giornata che è quello dell'ingegner Michele Munafò che è un nostro collega dell'ISPR e che parlerà proprio in dettaglio degli strumenti di valutazione degli effetti delle trasformazioni urbane sui servizi ecosistemici parlando proprio del caso del Comune di Roma. Grazie.